Ci saranno problemi per trovare l'accordo per il rinnovo del contratto alla luce di quello che ha detto il Presidente, ossia che ha stima di te e che ha intenzionato, ha fatto anche la battuta probabilmente, li abbracciavate, già io ho fatto primare il trenale. No ma con il Presidente vi ha già risposto lui, nel senso che noi avevamo già raggiunto l'accordo tantissimo tempo fa. Poi è chiaro che quello che è successo ha affermato tutto quanto, ora nel momento in cui la società avrà risolto tutte le faccende che conoscete, poi se ci sarà la possibilità e ci metteremo seduti, è chiaro che io a Teramo sono stato bene. E quindi questo l'ho già ribadito più volte, quindi poi ne parleremo sicuramente, anche perché io ho stima di questa proprietà, di questa società e nell'ambiente sono stato bene, quindi io preclusione non ce ne sono di nessun genere. Però credo che quindi guardi anche i programmi, no? Quella società è importante. Questo fa parte della mia professione. È chiaro che poi analizzeremo il tutto come facciamo all'epoca, perché anche all'epoca già parlavamo di programmi, progetti e come organizzare il tutto. Quindi questo sarà motivo di discussione con la società nel momento in cui ci metteremo seduti. Io penso che a obiettivo raggiunto è chiaro che siamo soddisfatti di quello che sul campo abbiamo espresso. E mi riferisco anche ai primi momenti, alle prime partite dove eravamo una squadra estremamente giovane, perché quello era il progetto tecnico della proprietà di allora, che insomma lo devo anche ringraziare perché è colui che mi ha voluto qua a Teramo. Il programma era un programma di giovani, di minutaggio e di quant'altro. E la squadra sul campo penso che era partita molto bene e i ragazzi stavano crescendo. Poi c'è stato un cambio di proprietà. Con il cambio di proprietà anche gli obiettivi societari cambiarono, perché non c'era più l'obiettivo di fare minutaggio, cosa che invece avevo come obiettivo precedentemente. E penso che le cose si erano indirizzate bene. Poi purtroppo è successo quello che conoscete e lì abbiamo subito, ma mi ripeto, quella è stata anche una situazione in cui penso che professionalmente mi ha fatto crescere, perché ho vissuto delle situazioni a cui non ero abituato, ma soprattutto a come gestire le mie risorse umane, che erano i miei calciatori, lo staff, perché nella difficoltà in tanti non ci sono stati. Sono stati pochi quelli che hanno accompagnato i ragazzi, dove nelle loro teste e in tanti c'era la perplessità e il dubbio di e ora cosa facciamo, ora che ne sarà di noi, perché le voci le sentivamo tutti quanti, addirittura c'era stata anche paventata la possibilità che finisse il campionato, come è successo al Catania. E purtroppo la difficoltà dove è stata? È stata anche quella di che era in un momento storico dove erano alle porte di un mercato. E quando dopo poco tempo si sarebbero aperte le porte del mercato, è chiaro che nella testa di tanti c'era anche la possibilità di guardarsi altrove. La difficoltà è stata quella, perché anche la partita ultima con la Reggiana ne fu testimonia. Cioè non c'erano... è una grandissima squadra, straordinaria, però quella fu una partita dove potevamo perdere anche 10-0. Cioè non è quello il livello. Lì eravamo veramente estremamente fragili e con un gruppo estremamente giovane. E quindi quelle furono le difficoltà che ci hanno fatto prendere anche tantissimi gol. E io lì non sono stato neanche bravo a isolare la squadra, ma questo me ne sono sempre reso conto. E c'è stata anche delle partite dove c'è stato proprio l'aspetto mentale che si è evidenziato in maniera eclatante. Cioè noi nel momento in cui successe quelli spiacevoli episodi noi andammo a Carrara e fummo travolti. Poi arrivarono delle notizie estremamente positive la settimana successiva e noi avemmo una reazione straordinaria a Ponte d'Era, vincendo 0-3 a Ponte d'Era che in quel momento non aveva praticamente mai perso neanche con le grandi squadre nel campo di calcio. Quindi questo perché lo dico? Per farvi capire quanto l'aspetto mentale conta. Perché nel calcio di oggi, ma in ogni ambito lavorativo, è chiaro che quando hai una società, una proprietà alle spalle che ti tutela, che ti fa stare tranquillo, è chiaro che ogni dipendente lavora sereno. Nel momento in cui in ogni dipendente c'è qualche punto interrogativo, lì siamo stati fragili. Poi abbiamo trovato tranquillità e questo non nego perché la proprietà non ci ha mai fatto mancare lo stipendio. Non è quello che mancava. Ci mancava la tranquillità del futuro. Poi, chiuso il mercato, siamo ripartiti. La squadra, la società, ha svolto un mercato che ha portato esperienza, che era quello che mancava. E quindi nelle difficoltà le abbiamo sapute affrontare perché ci siamo concentrati solo su quello che ci riesce a fare, che è pensare al campo. E ragazzi ne sono venuti fuori, ma sono estremamente convinto che questa sia stata una stagione estremamente formativa per tutti quanti, per me, per il mio staff, ma soprattutto anche per i calciatori, ma anche per coloro che hanno vissuto la quotidianità della società in ogni momento. Quindi questo è stato un po' il bilancio e forse anche il motivo, il perché abbiamo alternato in quei momenti tantissime figuracce e poi a qualche reazione, perché poi dal punto di vista dell'orgoglio, i ragazzi si sono sempre mossi con lo spirito di rivalza per far vedere che nelle difficoltà volevano riemergere. E penso che siamo arrivati all'obiettivo, grazie a tutti quanti, grazie alla società, grazie a calciatori, grazie al magazziniere, nessuno escluso, perché poi non era scontato. Perché ci sono tantissimi esempi che nelle difficoltà o in quello che abbiamo vissuto noi sono retrocessi o sono arrivati a play-out e non tutti hanno saputo far fronte alle difficoltà che abbiamo incontrato. Quindi io posso spendere solamente motivo, parole di grande elogio per i calciatori, perché anche per quelli che ci sono stati nella prima parte di stagione, nessuno escluso, mi viene da lamentare Mungo, ma perché è stato uno che in quei momenti lì, insieme a Rigoni, Lombardo, Soprano, che erano i più, tra virgolette, anziani, si sono fatti sentire dentro lo spogliatoio e hanno fatto sì che la quotidianità degli allenamenti è sempre stata svolta al massimo della professionalità. E per quelli che sono arrivati, perché oggi ho voluto premiare, anche ragazzi che complice il cambio di modulo, complice i tanti centrocampisti che avevamo, che vi ho detto nella conferenza pre-gara in Rosa, avevano avuto anche poche possibilità, ma che si sono sempre comportati con grande professionalità e so anche che per le scelte che ho fatto qualcuno di loro meritava più spazio e l'ho penalizzato. Però non ce n'è stato uno che ha tirato indietro. E quindi mi ritengo anche un allenatore fortunato che in una stagione così ha avuto a disposizione dei ragazzi che in primis sono risultati dei veri uomini. Quindi in questo lo staff, un allenatore è sicuramente un allenatore fortunato. Senti, mister, ti voglio chiedere, tornando un po' ai tempi più recenti, un mese e mezzo fa dopo la sconfitta con Montevarchi, vi hai creduto che per un attimo siamo ritornati a dicembre con paura che ci riscivola di nuovo di mano la situazione? No, no, quella percezione ormai non c'era più. Cioè magari giocavamo con meno intensità qualche partita, con meno aggressività, però la squadra sul campo ci stava sempre. Da gennaio, quando siamo ripartiti, anche nelle scoffite del gol al 94esimo con l'Imoleese, che è stata una partita un po' più passiva come atteggiamento, ma anche con il Montevarchi stesso dopo il gol ci fu una forte reazione, cioè chiudiamo il Montevarchi là. È vero che rischiamo due volte in contropiede, però rischiamo anche di fare il gol del pareggio. Cioè la squadra sul campo ci stava sempre come ci è stata anche oggi. perché oggi anche quell'aggressività che abbiamo messo sul 2-0 a campionato finito nel girone d'andata in quei momenti eravamo vittime sacrificali degli avversari e prendevamo imbarcate. Oggi l'imbarcata non la volevamo prendere, penso che si sia visto. E quindi no, io penso che da gennaio la squadra sul campo ci sia sempre stata, poi le prestazioni sono state migliori e qualcuno peggiore, però sul campo penso che abbia meritato nettamente la salvezza rispetto alle squadre che abbiamo messo dietro. Qualche piccolo rammarico ce l'hai? No, qualche rammarico c'è, perché penso che la squadra, se andiamo a analizzare veramente la totalità delle partite, partendo dalla prima giornata di campionato, la squadra sul campo meriterebbe sicuramente molti punti in più. Basta pensare il Gubbio qui in casa, che pareggiamo la partita, stradominammo, avremmo quattro palloni a tu per tu col portiere. La partita con la Vispesaro, il primo tempo veramente senza presunzione, ma doveva essere un 3-4-0 per quello che avevamo fatto sul campo e uscimmo sconfitti, ma nel girone di ritorno a Gubbio, all'ottantasesimo, noi abbiamo parlato poco, ma c'è un rigore su una parata di Migliorini che è clamorosa, è follia non averla vista e lì ci ha precluso anche addirittura di poter vincere la partita. La Pistoiese qui in casa ha fatto un tiro in porta e Sekulin tolse 5-6 palloni da dentro la porta. Quindi arrivando a tre punti da play-off è chiaro che un po' di rimpianto ce l'abbiamo, perché per quello che avevamo fatto vedere sul campo forse potevamo stare anche nelle prime dieci. Sarà benissimo, due considerazioni dal punto di vista tuo personale, non tecnico, la giornata più amara è quella di Imola, sì o no? E poi prima hai detto alcuni ci sono stati, altri no. Chi è che è mancato? No, ma qua quando successe le tristi vicende societarie o ci fu il fuggi-fuggi, eravamo pochi al campo, eravamo pochissimi al campo e quindi eravamo il gruppo squadra e pochi altri. E quindi è chiaro che io coloro che ho visto nelle difficoltà non li dimenticherò mai. Perché è troppo facile esserci nei momenti in cui la squadra vince oppure quando fa grandi prestazioni, quando raggiunge l'obiettivo. Poi per me conta di più quelli che ci sono nei momenti di gravissima difficoltà, dove allora nella quotidianità ti devono dare una mano, ti devono dare una pacca sulla spalla, devi avere parole di supporto e devi avere anche la fortuna di avere a fianco persone, uomini veri, che ti aiutano. Quindi è inutile stare a dire nomi o cognomi. io penso che mi voglio dedicare solamente al gruppo squadra. Al gruppo squadra l'ho nominato ieri perché Fabio Gatta c'è sempre stato, Carlo Muse ancora qui c'era alla presentazione e c'è oggi, ma c'è stato anche quando ha dovuto mettere la faccia con i tifosi dopo l'entella era lui a prendere gli insulti dai tifosi. Quindi come faccio a non menzionare queste persone che sono state al mio fianco sempre, come lo è stato Mauro il magazziniere, come è stato Mario che pulisce gli spogliatoi e come ci sono stati tutti quei calciatori là. Quindi queste sono le persone e Marco Volponi che ci ha fatto mangiare per tutto l'anno anche quando eravamo in difficoltà. E quindi si sono spesi per la squadra, hanno preso a cuore anche il momento e noi come staff e noi come calciatori. Quindi io queste persone qua me le porto dentro al cuore e se posso spendere una parola per loro farò di tutto. Imola? Con quelle voci? No, no, ma Imola è stato il problema è stato che un confronto che c'è in ambito lavorativo è stato fatto, l'errore è stato fatto perché è stato fatto all'aperto e non al chiuso di uno spogliatoio ma quelli sono confronti che in ambito lavorativo ci sono sempre. È chiaro che un presidente o un direttore sportivo quando vedano la squadra che non fa quello che deve fare o che potrebbe fare di più è chiaro che deve rendere deve parlare o spigliare l'allenatore l'allenatore io ho sbagliato perché ho risposto in pubblico era la cosa che mi aveva ferito davanti a tutti poi però sono cose che esistono nella quotidianità e che fanno parte del calcio ma fanno parte di qualsiasi azienda poi io con questa proprietà con questa società ripeto mi sono trovato benissimo perché poi nonostante quello screzio che era sotto gli occhi a livello mediatico di tutti quanti ma poi al chiuso ci siamo stretti la mano e abbiamo sempre parlato in maniera chiara io ho fatto ho detto le mie cose quando le dovevo dire loro mi hanno detto le loro cose quando me le dovevano dire e siamo andati e abbiamo raggiunto l'obiettivo d'insieme penso che da gennaio in poi abbiamo trovato unità di intenti c'è una difficoltà tantissima anche dal punto di vista sanitario ma penso che io penso che dal punto di vista sanitario devo no abbiamo rischiato tanto perché devo ringraziare Federico Porrini e Nicola e due fisioterapisti che molte volte hanno fatto anche le no sì no no hanno fatto molte volte hanno fatto anche i dottori e poi non possono menzionare la dottorezza che anche nei momenti di difficoltà è venuto è venuta con noi in trasferta perché se no rischiavamo anche la la multa è venuta